Benvenuti amici di MistiV, ci troviamo nella cripta di Santa Restituta a Cagliari. Da qui vi introdurremo un argomento nuovo per la nostra televisione, andremo alla scoperta della Cagliari Sotterranea. Lo faremo con un nostro collega e amico, autore di diversi libri su questo argomento. Sto parlando di Marcello Polastri. Venite con me, andiamo a conoscerlo. Eccoci, ci siamo. Siamo in compagnia di Marcello Polastri, giornalista autore di numerose libri proprio sull'argomento che andremo a trattare noi di MistiV. Marcello, un percorso storico, un percorso misterioso quello che andremo a fare? Sì, la Cagliari Sotterranea, Francesca, è un argomento di stretta attualità un po' trascurato perché ricchissima di cavità sotterranea che hanno dato la roccia, immaginati, per costruire Cagliari. La radice storica di questa città proprio poggia nel suo sottosuolo, nelle grotte, nei cunicoli, nei pozzi ed anche in questa cripta. Tra l'altro sono veramente tanti, numerosi, i posti non conosciuti, non noti della Cagliari Sotterranea che suscitano sempre grandi interessi quando poi chi svolge il tuo lavoro va a scoprirle. Abbiamo circa, immaginatevi, 2000 cavità sotterranee. Di queste solo alcune, circa 4, anzi 5, sono stati aperti al pubblico e rese fruibili. Delle altre invece si hanno poche notizie, quelle degli anziani che si sono rifugiati in tempo di guerra, nell'ultima fase della storia di queste cavità nel 1943. E abbiamo altre storie che sono quelle un po' più intriganti relative alle cavità inaccessibili. Ecco Marcello, soffermiamoci un secondo nel dettaglio proprio nella grotta o cripta qualsivoglia di Santa Restituta, ovvero dove ci troviamo adesso. Possiamo vedere un po' per esempio la statua della stessa Santa e spiegare qualcosa di questa grotta che appunto come dicevamo non è proprio conosciuta a tutti. Sì, possiamo appunto avvicinarci in un percorso che vedi si snoda per oltre 50 metri ma in un ambiente grandissimo dove la mano dell'uomo per lunghi secoli ha asportato la roccia. Ovviamente con delle particelle di roccia questa cavità è stata creata come se fosse un vero e proprio organismo vivente perché qui si sono concentrati bene 2000 anni di storia. Si racconta che all'interno di questa cavità i romani avevano realizzato delle cisterne, delle opere per poter attingere l'acqua e poi in un dato periodo storico è giunta questa statua che è ascrivibile al quarto secolo dopo Cristo, secondo alcuni esperti, ma non abbiamo una certezza unica. E questa statua è uno dei più grandi misteri della Cagliari sotterranea. Si sono scomodati esperti di templari, esperti di fede cristiana e si racconta che la stessa è stata poi adottata dai cagliaritani per poter divenire la cosiddetta madre di Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli. Insomma la chiesa ufficiale a questa statua è molto legata ed è anche diciamolo legata a doppio filo perché nel 1600 immaginatevi gli altari che vedrete in queste immagini sono stati realizzati per poter innalzare in senso cristiano la fede in Gesù all'interno di questa grotta che diventa una cripta ma anche una chiesa rupestre. Bene Marcello, io penso che ci sia già il tanto per aver incuriosito i nostri amici di Misti V, quindi questo è solamente un assaggio di ciò che poi andremo a seguire, andremo a vedere nel tour della Cagliari sotterranea. Certamente andremo a vedere degli altri ambienti sotterranei, io a telecamere spenti ho detto dovrei indossare anche un casco perché con l'elmetto protettivo con delle corde potremo scoprire degli elementi non difficili ma sicuramente molto suggestivi di una città che ha tanto da raccontare. Grazie a tutti.